Favorevoli Selle e Cinque Stelle. Ci siamo? Di Battista. Altri? Fico. Corda. L'onorevole Corda ha votato? L'aspettiamo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Ora abbiamo i due accantonati, 9377 e 9.378. Chiedo al relatore se li lasciamo accantonati o è in grado di darci il parere? Li lascerei accantonati, Presidente. Perfetto. A questo punto però noi non possiamo neanche votare l'articolo 9, quindi andiamo all'aggiuntivo 9.01 dell'onorevole Lombardi e lo poniamo in votazione col parere contrario di Commissione e Governo, favorevole il radore di minoranza. La votazione è aperta. La votazione è aperta. Onorevole Bianconi, sto per mandare il tecnico anche da lei. Bene. Bene. Bene.